Sono 59 i casi positivi di cui 3 in vigilanza attiva da parte dell'ASL di Bari tra i dipendenti della siciliani Carni S.p.A. a Palo del Colle. A questi ci sarebbero da aggiungere altri 7 risultati indeterminati di casi che dovranno quindi ripetere il test. Palo è la città più colpita con 25 lavoratori contagiati, seguono 7 a Bari di cui uno a Santo Spirito e uno a Ceglie e 4 a Bitonto. I restanti 23 sono residenti in altri 11 comuni della città metropolitana di Bari. Questi risultati definitivi sono a base di 468 tamponi effettuati su tutto il personale all'interno della ditta a partire dal 17 aprile, data in cui sono stati accertati i primi casi positivi. Sono questi i dati comunicati dal commissario prefettizio di Palo Rossana Riflesso per tramite del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari. Al momento però non c'è ancora nessuna comunicazione sui dettagli della relazione che sarebbe scaturita all'indomani dei controlli effettuati all'interno dell'azienda dal personale del Servizio Veterinario Sanità Animale, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, oltre che il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro e che hanno portato ASL e Prefettura a sospendere le attività dello stabilimento. Le uniche informazioni trapelate riguardano la sospensione dei settori produzione e macellazione dello stabilimento. Resteranno invece operativi, settori amministrativi, del trasferimento degli animali da sede a sede per i controlli veterinari e il servizio trasporto. Saranno infatti spedite le carni che già erano state acquistate e saranno smaltite inoltre quelle all'interno delle celle frigorifere. La deputata pentastellata bitontina Francesca Ruggero ha depositato una interrogazione parlamentare per chiedere se il Ministero dell'Interno è a conoscenza e se è stato informato dalla Prefettura di Bari della sanificazione e del rispetto dal distanziamento sociale all'interno dell'azienda in questione, nonché dell'utilizzo di prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione individuale, ovvero mascherine, guanti e camici monouso. Preoccupato per la situazione dei lavoratori anche il segretario regionale della UILA Puglia. Vorremmo capire dall'azienda che cosa si fa nel futuro e eventualmente, qualora questa sospensione dovesse continuare, come vengono coperti i lavoratori, se è stato attivato un piano delle ferie per chi ne ha, così come prevede il DPCM, quindi dei congedi ordinari, se saranno attivati gli ammortizzatori sociali. Sinceramente siamo in una fase in cui non si comprende questa mancata collaborazione e da che cosa dipende.